Quanti anni sono passati, ho sognato, sognato, sognato e ho attivato in me il desiderio profondo che un giorno potesse essere costruito un tempio magico. Ma sono anni che vado elaborando delle strutture magiche che possano avere tutte quelle specialità, peculiarità che un tempio magico deve avere. Ed è un sogno quindi che si è ripetuto, è un sogno che pensavo non si potesse realizzare mai. Ma almeno ci vuole una struttura, qualcosa da presentare, essere una cosa pubblica di come deve essere un tempio magico. Le visioni sono tante, arrivano, vanno, vengono, anche nel sonno. Ho avuto tante visioni, tanti tipi di tempio, ma nessuno, nessuno mai mi ha convento. Ero deluso perché ogni struttura, diversa dall'altra, presentava sempre elementi discontinui, non capaci da poter realizzare tutto ciò che era nella tradizione magica, nell'antichità. Però rivista con occhi nuovi, priva di quegli elementi superstiziosi che la magia stregonesca del Medioevo ci ha tramandato. Anche nei miei libri ho cercato sempre di rinnovare questa magia, portarla ai tempi moderni, cioè in parole povere, essere una scienza, una vera scienza, una scienza da paragonare con le altre scienze. E come ho sempre detto, l'amata di tutte le scienze. Ed ecco che giunge ad una veneranda età, tanti anni pesano sulle mie spalle, diciamolo, novanta, sono tanti. Ecco che in una nottata particolare ho sentito dentro di me che si stava smuovendo qualcosa. Io vivo in mezzo ai fantasmi e la notte mi vengono a trovare, a volte ci parlo, ma questa volta sentivo che c'era un'atmosfera particolare. Ed ecco che infatti, verso la tarda notte, ho avuto una visione, una visione di questo tempio, una visione che non avevo mai pensato che potesse essere così. ed ecco che mi appare. Mi appare in tutti i suoi particolari, nella mente che arrivavano. Subito mi sono messo su una scrivania e ho buttato giù subito quei elementi principali che ancora avevo in mente e che non volevano che sparissero, se no poi non avevo più ricordati. E lentamente la visione prende corpo su un foglio di carta con i diversi colori che mi erano apparsi. poi, stanco, ho lasciato lì. La mattina dopo, guarda, santone, ho rivisto tutto e mi sono reso conto che effettivamente nel tempio tutti gli elementi tradizionali del cosiddetto campo magico, cioè il campo dove il mago opera e dove effettua i vari rituali, vi erano tutti. Finalmente la struttura del tempo conteneva modernamente con le mie visioni nuove che avevo portato attraverso i miei libri, ma tenendo conto di tutta la lezione magica antica il tempo era lì, quello finalmente il mio sogno si era realizzato. Si realizzerà della sua grandezza, uscirà fuori da questo foglio, uscirà, ci sarà qualcuno che vorrà costruirlo e finalmente avere un tempio magico dove gli adepti possono entrare come in una chiesa, in un tempio, in una sinagoga, qualsiasi altro luogo mistico dove poter immergersi finalmente in quell'atmosfera magica che nella loro vita hanno avuto per sempre dentro di loro come un'ardente fiamma e che questa fiamma e questo sogno un giorno possano realizzarsi. Intanto sarebbe indispensabile che qualche esperto potesse fare un modellino di questo tempio. già potremmo avere qualcosa di più visivo tridimensionale da poter esaminare attentamente e un giorno forse qualche architetto che sia preso anche lui dalla fiamma dell'occulto possa realizzarlo nella sua completezza. Speriamoci così. Così il mio sogno avrà finalmente la sua totale realizzazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.